La trasmissione quarto grado, negli ultimi tempi, continua a mandare in onda l'audio del testimone della strage di Erba, Mario Frigerio, del 15 dicembre 2006, ovvero la prima volta in cui incontrò il magistrato Simone Pizzotti. La trasmissione fa sentire l'audio del quale sembra che Frigerio dica è stato Olindo, ovvero che l'aggressore della strage fosse il suo noto vicino di casa. Per questa ragione stiamo per mostrarvi un video che smentisce l'intera ricostruzione della trasmissione quarto grado con l'ausilio di documenti, documenti che vogliamo ricordare alla trasmissione quarto grado conoscono benissimo.